Concerto la sera di Natale, una decisione insolita, quella di Laura Pausini, fra poco più di un'ora al forum di Assago e i suoi fan sono già in attesa da ore. Un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve, benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Siamo qui dalle sette e mezza di ieri sera. Dove avete dormito? Qua. Nel sacco a pelo. Sono dalla Croazia. Mi piace più di tutti i cantanti del mondo. Siamo qui da stamattina. Siamo qui da stamattina. Siamo qui da stamattina. Da stamattina. Ci credo. Un amore folle. Sì, Laura è Laura, non la possiamo cambiare con nessun altro artista nel mondo. Oggi è il mio compleanno, pensa che è regalo, passarlo con Laura, non capiterà più ma è un regalo bellissimo. Siamo noi, siamo noi, i figli di vostri anni siamo noi. E che arriva il tempo per Natale, benvenuto ad un artista, la sua passione. Sei benvenuto a chi non cambierà mai, a un anno di noi. e che non cambierà mai, a un anno di noi. E quindi, siamo noi. Grazie a tutti.